Buonasera, cercavo un nuovo manga, però non le solite storielle, vorrei qualcosa tipo un thriller psicologico. Ciao, beh, per iniziare non posso non consigliarti Death Note, uno dei miei preferiti, e poi c'è una bella battaglia psicologica tra i due personaggi principali. Sì, però qui c'è stanno i mostri, queste cose per bambini, io vorrei qualcosa di un po' più impegnato. Beh, allora in questo caso possiamo andare su 20th Century Boys o su Monster del Maestro Urasawa. Sì, però... questo tratto mi sembra un po' troppo infantile, io cerco un thriller psicologico per adulti. Senti, puoi dare una possibilità a Omunculus che è un po' particolare fuori di testa, secondo me è il genere tuo. Non lo so, non sono convintissimo. Mannaggia, è veramente difficile trovare un fumetto bello a giorno d'oggi. Aspetta un po'. Eccolo! Ma è questo quello che cercavo, me l'ha consigliato anche mio cugino. Lui è un sarto, lei è una cosplayer e c'è un misterioso gioco di seduzione tra di loro. Ma io che le consiglio a fare le cose? Ma non potete andare su Pornhub come fanno tutti.